Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo a Modugno, precisamente in via Paraviso, in un contesto signorile di recente costruzione, immerso in una delle zone più belle e ben servite. Vi presentiamo un attico esclusivo che offre un'eleganza senza paragoni e un comfort di alto livello. L'attico è di circa 165 metri quadri, composto così. Entrando troviamo un salone doppio, con ampi balconi terrazzati, ideali per momenti di relax e intrattenimento. A sinistra troviamo un'ampia cucina abitabile, anch'essa con ampio terrazzo con vista mozzafiato su tutta la città. Dal disimpegno accediamo nella zona notte, dove troviamo due camerette ed un'ampia camera da letto con una spaziosa cabina armadio che affaccia sul terrazzo. Tre bagni per il massimo comfort e funzionalità ed anche una zona lavanderia per la massima praticità. Doppia esposizione che garantisce luminosità. L'appartamento dispone di un ampio terrazzo soprastante di circa 170 metri quadri, di esclusiva proprietà, perfetto per cene all'aperto e momenti di svago. Completa la proprietà un ampio box auto per la sicurezza e la comodità del vostro veicolo. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di possedere un attico esclusivo in una delle zone più ambite di Modiglio. Contattaci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire tutte le meraviglie di questa proprietà unica nel suo genere. Ciao, alla prossima! Ciao!